Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani e insegno alle persone a connettersi con le nuove frequenze di luce che aiutano a portare equilibrio in tutti i livelli, fisico, mentale, emozionale e spirituale. Mi trovo qui con Raffaella De Michelis, che è una studentessa che ha partecipato al percorso di coaching di due mesi, dove ha imparato a interagire con queste frequenze e vorrei che l'abbiamo qui ospita perché vorrei che mi raccontasse, ci raccontasse un pochino com'è andata questa esperienza. Ciao Raffaella. Ciao Rossella Chiara, buonasera a tutti o ciao a tutti. Dimmi un po' com'è andata, sei contenta di questa esperienza? Molto, molto e infatti ho deciso appunto di diciamo supportarti in questa cosa, di darti la mia testimonianza proprio perché è una cosa molto molto forte, è stata un'esperienza fortissima. Io arrivo già da diciamo delle esperienze olistiche di altre tecniche e questa devo dire ha incrementato ancora di più queste sensazioni, queste percezioni, anche perché io credo fortemente, ed è per questo che sono stata attirata dal tuo corso, che l'Arcangelo Michele è qui e che ci sono nuove frequenze, quindi andarle a diciamo capire, studiare, intuire, praticare è fondamentale. Com'è stato per te accedere a questo nuovo livello vibratorio delle nuove frequenze di luce? Dimmi un po'. Ma è stato semplice perché il corso si svolge in modo molto semplice, tu sei molto chiara ed è una cosa veramente molto più semplice di quanto uno ne possa credere e quindi ci si ritrova, anche se uno non ha mai fatto niente, ce ne arriva la prima esperienza da te, è veramente molto forte, perché sono veramente forti, molto potenti. Quindi è stato semplice, scusate. No, no, è molto semplice arrivarci, no? Proprio se uno segue quello che tu dici, è molto semplice. Ascolta, come è stato, cioè sei riuscita a percepire la presenza dell'Arcangelo Michele attraverso le frequenze, attraverso le preghiere e così via? Già tu comunque sei una persona molto dotata, però in questo percorso sei riuscita a ricevere la sua presenza? Sì, assolutamente sì e penso che non, adesso al di là che uno possa essere più o meno dotato, cioè abbia i canali più o meno aperti, l'Arcangelo Michele proprio perché è qui tra noi si palesa, lo senti, lo senti proprio in modo profondo perché, ecco io lo faccio con un riferimento a qualcosa di prima, cioè di prima del tuo corso, sono molto intense, sono proprio cambiate, le frequenze, quindi l'Arcangelo Michele si presenta, si palesa e come ti ho detto nell'ultima lezione io già lo, canalizzarlo, so che è vicino a me e appunto mi ha detto di andare a trovarlo alla Sacra di San Michele e ci vado alla fine di questo mese. È bello, bellissimo, bene bene. Ascolta, a chi consiglieresti tu questa esperienza, questo percorso? Ma guarda, nessuno in particolare, tutti, cioè tutti coloro che sono, diciamo, sentono un risveglio, si sentono, capiscono che c'è da andare a lavorare, no? Su se stessi, ecco questo può essere sia un inizio che un approfondimento, quindi più o meno tutti. L'importante è crederci, come sempre, quando si fa qualcosa, crederci, perché se non ci si crede non funziona nulla. Certo, ascolta, un'ultima domanda, abbiamo visto che queste frequenze aiutano a portare equilibrio, quindi si tratta di un riequilibrio energetico, è una forza intelligente che sa dove deve andare, noi non possiamo, diciamo, dire che cosa verrà, perché comunque è indipendente dalla nostra volontà. Volevo sapere, nel tuo caso specifico, se tu hai avuto beneficio da questo lavoro energetico e se stessi, che cosa hai notato, che cosa è successo? Beh, guarda, all'inizio è stata una ripulitura, mi ha ripulito e dopo che appunto mi sono ripulita, perché i canali vanno tenuti sempre puliti, ecco c'è stata un'amplificazione del mio sentire, quindi questa è la mia esperienza. Assolutamente, certo. Assolutamente forte, poi ecco chi soprattutto lavora con le mani, quindi lavora con le energie, questo ha portato a proprio sentire in maniera ancora più forte l'energia nelle mani. Cioè io ad esempio appena faccio le tue preghiere, le preghiere che tu fai, ma ripartono. Sì, sì. Quindi non c'è bisogno di concentrazione di simboli, di cose, cioè è molto intuitivo e molto semplice. E cosa ne pensi della protezione con l'Arcangelo Michele? È fantastica e io già lo pregavo prima per la protezione perché chi conosce già gli Arcangeli o comunque conosce un po' l'Arcangelo Michele sa che l'Arcangelo Michele è l'Arcangelo della protezione, colui che insomma sconfigge il male, quindi ma è potente. Assolutamente, bene bene, io ti ringrazio per questa testimonianza, veramente ci sentiamo e ci vediamo presto e spero che possa arrivare al maggior numero di persone possibili per aiutarle a prendere consapevolezza che queste frequenze esistono, che sono tangibili e si possono sentire nelle nostre mani. Assolutamente sì, assolutamente sì, e ringrazio io te perché non a caso ci si incontra. Assolutamente, grazie Raffaella, un abbraccio grande. Grazie a te. Ciao, ciao. Anche a te. Ciao, ciao.